Presidente Casini, come giudica le parole del Presidente turco sul Papa che aveva denunciato il genocidio degli armeni? Il Papa ha ribadito ciò che aveva già detto Giovanni Paolo II e le parole di Erdogan sono inaccettabili. Per noi è una cosa triste perché siamo amici dei turchi, ma vogliamo che la verità non venga mai in mano messa. Quale posizione deve avere il governo italiano in tema? Il governo italiano ha una posizione col Ministro Gentiloni, cioè tenere le porte dell'Europa aperte alla Turchia, ma guai se questa operazione dovesse passare su una manomissione clamorosa della realtà. La storia parla chiaro, il genocidio c'è stato e gli stessi turchi hanno cercato di normalizzare le relazioni con l'Armenia riconoscendo le pagine brutte del passato. Oggi mi sembra che si stia regredendo. Secondo Salvini la Turchia è indegna di entrare in Europa. Salvini gioca su uno stato d'animo della gente, oggi è il momento giusto per fare questa affermazione dal punto di vista di Salvini, ma noi dobbiamo guardare gli interessi italiani e europei, dobbiamo guardare avanti, non speculare sugli stati d'animo. La Turchia è un bastione fondamentale contro l'estremismo islamico, è a due passi dal Daesh. Noi abbiamo interesse, noi europei, a tenere aperte le porte alla Turchia perché è un interlocutore fondamentale, non solo per le nostre aziende che vanno a lavorare in Turchia, ma anche nel contrasto alla deriva islamista. Berlusconi e Prodi, periodi e stagioni diverse della vita politica italiana, hanno sempre seguito questa linea e hanno fatto bene.